buongiorno sono anna lavatelli e prima di tutto voglio ringraziare marino muratore per avermi scelta come autrice del 2021 presente nelle biblioteche di genova e di tutta la liguria è una cosa che mi fa molto molto piacere vorrei dirvi poche cose prima di tutto perché amo la letteratura per ragazzi il motivo è che secondo me la più grande possibilità di spaziare nel mondo dell'immaginario tenendo sempre presente le realtà in cui viviamo e questa è una cosa stupenda secondo elemento altrettanto affascinante e poter essere da qualche parte in qualche momento dove meno me l'aspetto e i luoghi in cui non andrò o con persone che mai conoscerò poter trasmettere appunto dicevo il piacere della lettura diffondere questo piacere attraverso i libri che scrivo non tutti ci riusciranno non sempre io riuscirò ad essere così persuasiva ma sicuramente questo è uno degli obiettivi che per me sono più vitali nella nostra società ma che sono anche più cari alla mia persona io non sono nata scrittrice volevo fare la burattina io da bambina e da adulta ho fatto l'insegnante per un po di anni ma alla fine quando mi sono avvicinata alla scrittura un po per caso un po per la passione che sentivo verso la parola scritta è un po con un desiderio di restituire in qualche modo tutto ciò che avevo ricevuto dei libri che avevo letto e che mi avevano praticamente formata questi libri di lettura che io ho amato tanto nella mia giovinezza e questo appunto è stato il motivo forse più se vogliamo razionale ma il coup de coeur era l'amore per le parole io credo che questo è comune a tutti gli scrittori ma noi che scriviamo per ragazzi abbiamo sempre anche presente una forte volontà di trasmettere il piacere la voglia di leggere e io spero che anche i miei libri abbiano partecipato nella loro piccola parte a promuovere questa diciamo abilità fondamentale questa passione meglio fondamentale nella vita di delle persone